Sono Francesco Menzoni, nato in Sardegna e residente in Belgio. Siamo venuti qua io e un mio amico purtroppo che non c'è più, Gianfranco, tutto bene, sono contento, sono già ormai 4 anni che ho gli impianti, sono venuto per fare una pulizia agli impianti tutto completo della bocca e vedo che ho visto molto cambiamento sia sulla nuova clinica e sia anche su quell'altra clinica. Il personale è sempre lo stesso, uno più bravo dell'altro, è un amore venire qua. Solamente mi dispiace che ancora non ho visto il dottor Palmas, è una buca resta, lui fa sempre il turista, però è una brava persona, una persona in gamba, sa quello che fa e sta aiutando molta gente. Questo dobbiamo dirlo, un vero sardo, sia di nome sia di fatti. Sono tutti contenti, i miei amici quando mi hanno visto sono rimasti meravigliati del lavoro che mi hanno fatto qua. Come sarà? Sarà cambiato la tua vita? È cambiato sempre meglio, infatti si vede anche un po' di trippa, un po' di pancetta. Il bello è questo, vedi che è tutto davanti, non è che lavori di nascosto, lavori proprio davanti a tutti i pazienti e vedano quello che fai. Questa è anche una cosa bella, è come quando tu fai il mangiare che fai cucina davanti, che non cucini dietro, che nessuno ti vede. Invece così si vede davanti e si vede tutto il lavoro che tu fai. Perché quando il paziente è contento, è contento anche il personale che lavora. Molto bene, proprio magnifico.